Musica 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 Volevamo dare un segnale della nostra volontà sui temi del contrasto alla precarietà e sul reddito per le persone che versano in condizioni di povertà di voler unire i nostri sforzi e le battaglie non solo in Parlamento ma anche fuori nel Paese perché ce n'è bisogno Musica Certamente la pace, la lotta contro la guerra certamente la lotta contro la precarietà, la lotta per il salario minimo, la difesa del reddito e l'opposizione ha una destra che sta smantellando l'impianto dei diritti sociali e civili di questo Paese Ripetiamo tre volte la parola Pace! 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 Musica Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti mettete a posto i marciapiedi, le aiole, i tombini senza dare nell'occhio col passamontagna fate il lavoro e scappate! Le dichiarazioni di Grillo sono inaccettabili e pericolose rievocano uno dei periodi più bui dalla storia del nostro Paese e allo stesso tempo dimostrano la totale assenza di idee e di proposte da parte dell'opposizione Musica Un errore partecipare a questa manifestazione, un errore politico non parlo di questioni soggettive, un tratto di subalternità le parole di Grillo sono parole gravi, a me non fanno ridere Devocare il termine brigata in questo Paese bisogna farlo sempre con molta cautela e parsimonia ma soprattutto non da un palco di una manifestazione pubblica Allora qui il paradosso, ovviamente dell'artista il consiglio è che qui ci avevamo voluto, dovevamo fare il bravo di strumento perché oggi si vuole fare con il palco un marciapiede nulla di nessuna strumenta, nulla che si possa apprastare a un'assuridizzazione Non mi sfugge invece il segnale di tanti esponenti anche di quelli che hanno diverso le forze d'opposizione il termine ero è quello del conflitto sul grano Buongiorno, buongiorno cari telespettatori buon avvio di settimana settimana che si apre con il Partito Democratico le acque sono agitate per la partecipazione appunto di Eli Schlein sabato scorso alla manifestazione del Movimento 5 Stelle hanno insomma suscitato molto clamore le parole che avete sentito di Beppe Grillo che peraltro a sorpresa ha partecipato a questa iniziativa ma anche le parole espresse sulla guerra in Ucraina oggi pomeriggio ci sarà una direzione del Partito Democratico insomma in cui vedremo come andrà il confronto c'è un altro tema che scatena molte polemiche tra maggioranza e opposizione che è quello che riguarda il reato universale di maternità surrogata oggi inizia l'esame nell'aula della Camera esame preceduto da anche polemiche che riguardano i dubbi di costituzionalità e applicabilità poi eventualmente di questo provvedimento poi visto che cominciamo la settimana vogliamo segnalarvi il viaggio domani a Parigi di Giorgia Meloni Giorgia Meloni parteciperà all'Assemblea Generale del Bureau Internazionale che è quello che assegna Expo come sapete l'Italia è in lizza per l'edizione del 2030 la candidata più agguerrita è Riad che dispone anche diciamo di una buona dose diciamo di risorse economiche che l'Italia propone un gemellaggio insieme alla città di Odessa vedremo è una tappa ancora intermedia a novembre ci sarà la scelta definitiva di quasi 180 paesi e si sta lavorando anche ad un incontro tra Meloni e il presidente Macron in vista del prossimo vertice europeo che sul tavolo avrà due argomenti scottanti ancora il dossier migranti e anche il dossier che riguarda le nuove regole europee ecco questo tanto per dare un quadro a inizio di settimana e c'è poi tutta la prima parte della riforma della giustizia che come sapete è passata in Consiglio dei Ministri insomma annunciata da Nordio parleremo anche di questo lo facciamo con Michele Anis costituzionalista bentornata professore Anis buon dio do il buon lunedì a Virginia piccolino del Corriere della Sera ciao Virginia benvenuta buongiorno benvenuto a Mario Benedetto del Tempo e saluto collegato con noi da Milano Alberto Mingardi che dirige l'istituto Bruno Leoni è docente di storia delle dottrine politiche allo Iulm e ha pubblicato un bel libro per il mulino Capitalismo lo possiamo vedere insomma avremo molto di cui discutere buongiorno Mingardi buongiorno allora vorrei cominciare con da te Virginia anche se fra poco dobbiamo interromperci come al solito abbiamo cominciato molto tardi nuove tensioni nel Partito Democratico che succede? oggi mi pare ho letto una dichiarazione del sindaco di Pesero Matteo Ricci parte il sindaco di Bologna Lepore che in un'intervista dice è caduto in una mezza trappola e l'ishline beh non penso non credo credo che sia la ricerca di un'identità di questo nuovo partito che lei deve in qualche modo aggregare perché diciamo per le vicende che ci sono state che sappiamo tutti è andata male è andata male la sfida elettorale qualcuno chiede un passo diverso e nuove alleanze per sfidare la destra quindi credo che questa sia la sua difficoltà ma la difficoltà più grande è che lei cerca in qualche modo di accontentare un po' troppo forse anime molto molto diverse e quella con l'alleanza con i 5 Stelle è sicuramente una cosa che in qualche modo la porta di fronte alle più grandi contraddizioni interne prima fra tutte ovviamente è quella che noi abbiamo visto sulla pace l'abbiamo visto nelle vostre immagini molto belle la pace che pace significa non armi e però coincide con la pace che vorrebbe Putin che significa che io sono entrato lì e qualcosa me lo tengo e questa cosa diciamo è vista in modi molto molto diversi ma è il nodo centrale perché da lì poi ne derivano tutte altre sfide su temi molto sentiti cioè noi in qualche modo se noi abbracciamo quella linea e poi ci troviamo di fronte ad altre cose che mostrano come ad esempio oggi leggevamo sui diritti e da lì vengono le chiusure più dure cioè le LGBT vengono dovranno essere sottoposte addirittura delle cure cioè è chiaro che siamo in un mondo complesso non è più semplice avere una linea univoca me ne rendo conto però il problema è che una personalità forte le racchiude in sé lei in qualche modo forse non vuole ancora imporla forse bisogna darle tempo non ho idea però in questo momento certo si trova un po' ad ondeggiare l'unica giudezza che possiamo diciamo dire tranquillamente è che la vita dei segretari del PD è sempre stata molto tormentata insomma non è la prima Elish Line a trovarsi in questa situazione allora subito in pubblicità ci vediamo tra poco allora vado da Mario Mario Benedetto preceduto da un'intervista al Corriere della Sera stamattina dell'ex ministro Orlando del Partito Democratico Orlando dice nei prossimi mesi dovremo essere il collegamento tra piazze molto diverse tra loro non si può imputare a chi partecipa la responsabilità di tutto ciò che viene detto in quei contesti in questo caso era una manifestazione contro la precarietà e per la difesa del reddito di cittadinanza obiettivi che condividiamo si corrono dei rischi per evitare quello più grande restare a casa e isolarsi ma guarda Andrea secondo me intanto c'è un grande tema che è lo scollamento della realtà che è rivelato secondo me anche da queste battute e da queste dichiarazioni perché contro la precarietà e per difendere il reddito secondo me per quanto mi riguarda seguendo i principi di un'economia liberale è una contraddizione in termini e lo si vede tra l'altro ai risultati che aspetta con la parola di economia liberale oggi c'è Mingardi che ci dà una lezione a tutti va bene lo ascolteremo con grande attenzione infatti e ti dico i numeri ce lo dicono che quella formula cosa ha prodotto fino a oggi e la nuova formula poi in attesa appunto di vedere i risultati di lungo periodo vediamo cosa produce su occupazione abbiamo visto diciamo anche il famoso taglio del cuneo fiscale quindi l'impatto sul PIL che è determinato anche in termini di crescita che ci vede appunto in test in Europa è determinato anche da una politica sull'occupazione vincente che vede insieme all'aumento dell'occupazione anche la diminuzione degli inattivi che è anche un tema rilevante allora quella piazza è una piazza che a mio giudizio serve solamente in linea teorica perché poi non serve neanche a loro perché gli ritorna indietro come un enorme boomerang a creare una sorta di consenso a compattare un consenso che secondo me chi stava in quella piazza gestisce in modo prima di tutto irresponsabile come ricerca perché non voglio neanche commentare le dichiarazioni di Grillo che sono fuori luogo ma poi tra l'altro chi ci è andato a fare i servizi non ho capito neanche il principio di quella battuta ma chi lo ha seguito chi è andato a fare i servizi a sistemare i parchi cosa diceva cioè che discorso è perché dovrebbe travisarsi è un messaggio e sono parole che non servono perché è da lì che dobbiamo partire Andrea secondo me quando non ci sono i risultati e quando i partiti perdono consenso significa che stanno insistendo su qualcosa che non è percepito come realmente utile dalle persone che è quello che noi dimentichiamo e l'ishline purtroppo è magari la ricerca di un'identità ma non so che identità stia cercando andando a sposare delle battaglie perché starci non immaginavo assolutamente sì tant'è che come dicevi ci confermavi anche pare che l'abbia deciso anche all'ultimo momento cioè non si capisce il motivo per cui lei debba andare a consolidare un'alleanza diciamo che può essere comprensibile rincorrendo di una come dire deriva non solo ideologica ma di agganciamento alle esigenze reali delle persone che è esattamente quel motivo per cui il movimento nasceva e che oggi sta contraddicendo i termini cioè io non trovo produttivo la dimostrazione sta anche qui perché mi piace agganciare sempre i fatti nella perdita dei pezzi politici e di consenso della Shline che ti devo dire a me fa anche una sorta di simpatia infatti mi prendono in giro ogni tanto mi fa una sorta di simpatia però obiettivamente trovo che stia sposando delle cause che in linea teorica contro il precariato siamo tutti d'accordo ma credo che stia seguendo le strade sbagliate come formule e stia scegliendo le interlocuzioni sbagliate come alleanze semmai un partito con una tradizione e chiudo riformista storicamente riformista importante come il partito democratico che è un patrimonio della politica non delle parti ecco semmai dovrebbe giocare a inglobare e come dire parlamentarizzare far diventare ragionivoli delle soluzioni che non sono quelle cioè frato gli anni sul suo sito propone il modello Cuba per l'economia di cosa stiamo parlando? Voglio adesso come voglio il professor Heinis per dire un'altra cosa Conte l'ha ripetuto spesso in questo periodo ha detto non è tempo di un'alleanza organica con il partito democratico possiamo intenderci su alcuni temi e alcuni temi come il reddito minimo anche il salario minimo meglio come il reddito di cittadinanza entrambi insomma sono molto critici sulla riforma voluta dal centro-destra però se non si trova una strada comune tra le opposizioni insomma sarà molto difficile cominciare a dar fastidio no? alla maggioranza di centro-destra Sì è talmente ovvio che ci si sorprende perché non viene percepito perché non viene messa a frutto la lezione della destra la destra si è sempre compattata quando c'era una tornata elettorale davanti e quindi diciamo questo frutta dei successi è vero che nell'orizzonte politico ci sono delle elezioni europee e che le elezioni europee si svolgeranno con un proporzionale quindi ci sta che ciascuno cerchi di marcare la propria identità e in tutto questo c'è la difficile identità del partito democratico che nasce da un matrimonio insomma non non mai riuscito diciamo del tutto tra anime cattoliche laiche eccetera e quindi da qui le difficoltà della nuova segretaria però a me non sorprende non mi scandalizza che ci sia un dibattito anche animato all'interno di un partito mi sorprende di più quando questo dibattito non c'è quando vengono celebrati i congressi quando tutti sono come soldatini diciamo intruppati attorno alla voce del capo perché la democrazia questo diciamo proprio per chiamare le cose con il loro nome in questo momento è fratelli d'Italia dove non mi pare di sentire delle voci di opposizione interna forse ci sono di più all'interno della Lega forse Italia forse Italia si apre uno scenario abbastanza inedito adesso un scenario inedito ha guadagnato alcuni punti percentuali nel consenso insomma per questo per la perdita di Berlusconi tutto questo richiama ora qui non è il costituzionista però noi non abbiamo ancora una legge sui partiti e la legge sui partiti permetterebbe anche di cementare le leadership attraverso un migliore dibattito e una cucina di questo tipo no no pensavo mentre parlava il professor Heinis che poi dipende molto dalla natura del leader di un partito no cioè anche i leader hanno personalità diverse poi uno dice sono dei leader però cioè il leader diciamo più aperto a una certa sorta di collegialità il leader che decide da solo no diciamo anche questo leaderismo esasperato no che ha cambiato molto la politica italiana e non solo italiana in tutto il mondo io sono affezionato a una lezione di Platone la democrazia è assenza di capi c'è un passo sulla repubblica di Platone dice ma se verrà della nostra città un uomo in signe dotato di saggezza di virtù militari e di capacità di affabulare il popolo cosa dovremo fare dovremo riempirlo di onori e accompagnarlo alle porte della città invece non solo in Italia come le diceva c'è una capocrazia peraltro capocrazia eh sì la democrazia del capo che è santificata dagli statuti anche quello dei 5 stelle insomma e anche tutti gli altri che per quello evocavo la legge sui partiti sì sì allora vado da Alberto Mingardi che peraltro vedevo sorrideva si divertiva molto in queste prime fasi Mingardi sì la capocrazia mi sembra purtroppo la regola ovunque insomma sono le dimensioni della democrazia di massa il genere di partecipazione da parte dell'elettore che cerca vuole l'identificazione con un leader con un capo e ovviamente anche il sistema dell'informazione soprattutto oggi con i social quando c'è un'identificazione quasi diretta tra elettore e capo partito è un problema che dobbiamo porci non solo noi insomma ma il comune mezzo gaudio sì una domanda che volevo fare a Mingardi riguarda proprio la natura della manifestazione di sabato perché mi pare che il titolo fosse basta vite precarie una cosa del genere cioè era una manifestazione incentrata su alcune delle bandiere del Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza adesso il salario minimo tutta la partita che riguarda l'aumento delle diseguaglianze questa lotta contro l'inflazione che sta penalizzando sempre di più ovviamente le famiglie a più basso reddito allora faccio tutta questa premessa per dire che il libro di Mingardi si intitola Capitalismo insomma dedicato all'economia di mercato immagino ed è uno di quei temi messi molto in discussione negli ultimi anni dico negli ultimi anni perché c'entra qualcosa anche la pandemia forse e si dice la globalizzazione soprattutto la globalizzazione ha portato grandi vantaggi nel mondo facendo emergere classi per esempio poverissime facendo stare meglio molta gente e però ci si interroga molto su dove sta andando questa economia di mercato questo capitalismo o no Mingardi mi sembra che la manifestazione dei 5 stelle alla quale ha partecipato anche l'Ishlein fosse perfettamente allineata su quelli che sono oggi alcuni dei temi forti diciamo così della sinistra intellettuale in tutto il mondo forse anche questa la ragione per la quale Schlein che è un leader eletto dai militanti che hanno un forte senso d'appartenenza e anche una idealità che in qualche modo dipende un po' dalle cose che leggono dai dibattiti che ascoltano ha voluto esserci e partecipare il tema più rilevante forse posto da Grillo è un tema che va molto di moda cioè l'idea non solo di un reddito di cittadinanza ma di un reddito incondizionato che dovrebbe essere necessario in ragione del fatto che arriverà l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale distruggerà un sacco di posti di lavoro e pertanto bisognerà tutelare la capacità di spesa delle persone da una parte e dall'altra in qualche modo socializzare come dire i profitti di coloro che li faranno i pochissimi che riusciranno a farli in virtù dell'intelligenza artificiale sono temi indubbiamente molto suggestivi e che conquistano l'immaginazione delle persone la storia non è necessariamente come dire una cabina armadio di lezioni dalla quale prendere ogni volta la lezione che ci fa più piacere però quello che noi grosso modo sappiamo rispetto alle grandi innovazioni del passato questa è un po' la storia del capitalismo che queste grandi innovazioni effettivamente spiazzano molte persone effettivamente liberano risorse ma poi quelle risorse di solito atterrano su nuovi impieghi e quindi creano nuove opportunità nuovi posti di lavoro in processi di adattamento che ovviamente non sono sempre semplici da gestire ma tutto sommato fin qua noi li abbiamo saputi vivere l'idea che sta un po' dietro questa retorica e che invece adesso è tutto diverso che siamo a uno snodo cruciale della storia e quindi bisogna attrezzarsi se le cose andranno effettivamente così in qualche modo il Movimento 5 Stelle si sarà messo come dire in prima fila se invece le transizioni gli smottamenti saranno molto più lineari graduali e continui forse questi saranno stati solo salti carpiati retorici professore una volta si diceva io sono un po' vecchio ci vuole un nuovo modello di sviluppo si diceva non lo si dice da sempre e ci si interroga molto in questi anni in queste fasi sul nuovo modello di sviluppo nel suo libro Mingardi dice dalla rivoluzione industriale che aspettiamo alla fine del capitalismo ma per sostituirlo con che cosa questa è la domanda che si fa lo dico perché appunto tutti i giorni parliamo di divario che si allarga di diseguaglianze che crescono io una volta abbiamo detto per esempio che le grandi aziende diciamo le grandi big tech ormai hanno fatturati più di stadi singoli stati ma io penso anche ai singoli imprenditori come dire ai singoli tycoon cioè Elon Musk che è un uomo stato lui al di là delle sue aziende di ogni tipo hanno un potere immenso articolo 41 terzo comma della costituzione diamo i numeri tanto di chi la mattina si possono dare la legge determina i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali questa è una norma che è stata a volte come dire imputata di comunismo ma in realtà non è così significa che in un'economia di mercato per evitare delle storture per evitare che il più forte mangi il più debole per evitare che la concorrenza io ho fatto parte ed è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto per sette anni dell'autorità antitrust che vigila sulla concorrenza e la concorrenza significa aiutare diciamo i deboli rispetto alle prepotenze dei forti ecco tutto questo richiede un intervento della mano pubblica non un intervento che sia come dire che schiacci le energie del mercato ma che ne eviti gli abusi che regoli che lo regoli che lo regoli che lo regoli è la parola più difficile perché regolare è un confine no? molto labile sì però ecco questo momento in cui per un verso lo Stato si sta diciamo con capitali pubblici vengono entrano in settori dove c'erano prima soltanto dei privati ma per altro verso si fa fatica ad accettare una cultura della concorrenza che comunque ha bisogno di qualcuno che vigili sulla concorrenza perché il principio è quello dell'eguaglianza non nei punti di arrivo tutti lo stesso stipendio la stessa cravatta ma nei punti di partenza perché ci sia un'eguaglianza nei punti di partenza occorrono per esempio delle affirmative actions le introdusse in America Johnson che prese il posto di Kennedy dopo l'omicidio e lui diceva supponiamo che un uomo abbia trascorso molti anni in catene con una bella palla di ferro ai piedi viene liberato e viene condotto ai nastri di partenza di una corsa e dice vai fai 100 metri insieme agli altri e Johnson diceva ma sarebbe equa la corsa no perché sia equa devi dargli un vantaggio devi dargli 10 metri farlo partire davanti agli altri e questo vale per la condizione femminile dove ci sono delle sofferenze vale in tanti settori ma richiede un intervento pubblico della mano pubblica come vedete come si allarga il discorso molto interessante adesso però vi faccio tornare sulle cose come dire più di politiche domestiche intanto vi do questa notizia poco fa Beppe Grillo ha fatto sapere brigate di cittadinanza fermatevi era una butade dice Beppe Grillo e ci vediamo tra poco inconcepibile contrario alla costituzione qualcuno ha detto addirittura non so se un regalo alla mafia o comunque tutte queste cose secondo me incorretto italiano significano interferenze visto che queste parole provenivano dal presidente di una associazione che si pone come interlocutrice della politica del governo se l'Europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato di repressivo noi siamo disposti ad accoglierlo ma non nella forma in cui esisteva adesso l'abuso di ufficio che era così evanescente è atipico da non avere uguali tra l'altro in nessun altro ordinamento europeo lascerà i privati alla merced di un pubblico ufficiale che potrà approfittare di un suo pubblico ufficio per trarre vantaggio per sé o per i suoi cari o per fare danno a terzi non si può pensare che si possa utilizzare del pubblico ufficio come se fosse qualcosa di proprio allora la norma dal 2020 è contenuta entro questi limiti abrogarla non ha alcun significato nel caso dell'abuso in atto ufficio sono dieci anni che mi batto contro questa ipotesi di reato e contro la legge Severino nel caso dell'abuso in atto ufficio abbiamo sentito in queste ore che vi sono stati 5.000 procedimenti giudiziari aperti e 18 condanni il problema è parlare dei 5.000 cittadini italiani amministratori pubblici governanti che hanno visto la propria vita rovinata sapete quanto costa un processo penale sapete quanto è costato il processo fatto al suo tempo contro Andreotti che non è che è finito nel nulla è costato un miliardo di lire alla parte soltanto per fare le fotocopie è inaccettabile la possibilità che viene elevata ai magistrati di poter ricorrere in appello per reati come ad esempio l'evasione la ricettazione lesioni gravissime per incidenti stradali questa è una piega bruttissima come è assolutamente fuori loco dedicare questa riforma a Silvio Bergusconi che è stato condannato per fraude fiscale allora non posso che riprendere da Virginia Piccolillo dando conto di quanto ha detto poco fa il ministro Nordio sono parole molto precise noi interverremo per attuare completamente l'articolo 15 della Costituzione che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni in questo momento siamo intervenuti parzialmente per tutelare il terzo cioè la persona che viene citata nelle conversazioni di altri ma successivamente interverremo anche per tutelare la dignità e la libertà delle persone che parlano e devono parlare fra di loro in riservatezza perché la riservatezza è l'altro lato della libertà naturalmente dice Nordio senza compromettere le indagini per i grandi crimini della delinquenza organizzata che succede oggi peraltro tu hai scritto un articolo che diciamo scandaglia anche un po' gli umori della maggioranza di governo e della Lega in particolare mi pare rispetto all'esternazione di Nordio che è stato molto duro con l'Associazione Nazionale Magistrati no? Sì diciamo che questo clamore che lui ha sollevato andando a prendere una posizione così determinata e a voce alta questo gli viene diciamo in qualche modo rimproverato ma a bassa voce nei corridoi nessuno lo lo dichiara è secondo loro incauto quindi diciamo la Lega non è che nel merito è contrario al provvedimento anzi lo vorrebbe molto più ampio vorrebbe che si arrivasse subito alla riforma delle riforme anche Renzi mi pare dall'altra parte chiede una riforma meno timida esatto vorrebbe che si arrivasse alla separazione del carriere quindi avrebbe preferito magari arrivare allo scontro ma con un provvedimento che poi arrivava a quello che loro chiedono mentre in questo modo per un provvedimento che si si può appunto l'ANM ha sollevato delle criticità sull'abuso d'ufficio piuttosto che sulla pubblicazione ma insomma diciamo che non è la battaglia campale sulla giustizia che chiedeva Forza Italia e che chiede anche la Lega quindi questo è una parte dopodiché c'è l'altra anima della maggioranza che è Fratelli d'Italia se questo provvedimento non è stato appunto è stato solo un primo passo è perché c'è una resistenza da parte di Fratelli d'Italia se non altro da parte di diciamo del loro messaggio culturale che è sempre stato non solo a favore dell'indagato ma anche non come viene in qualche modo adesso polarizzato o si sta dalla parte dell'indagato o si sta dalla parte del magistrato no c'è anche una parte l'esa c'è anche la necessità di andare a scoprire i reati non si parte che io so chi è Matteo Messina Denaro devo arrivarci e quindi in qualche modo anche queste dichiarazioni di bandiera io vabbè per i terroristi lascio tutto per gli altri invece no e non tiene conto diciamo di una gradualità di indagini che deve arrivare a scoprirlo e quindi ha la necessità di scandagliare dicono anche gli stessi magistrati dell'ANM reati spia piuttosto che altre cose allora l'elettorato di Fratelli d'Italia non era in qualche modo così favorevole a diciamo andare assolutamente verso il garantismo col vento in poppa quindi c'è stata questa discussione interna perlomeno quanto filtra e quanto ci dicono e si è arrivati a una mediazione in cui non si possono pubblicare le intercettazioni ma ancora si possono fare e così via adesso già sentiamo echi di secondi passi e cose che arriveranno però in qualche modo queste dichiarazioni di Nordio hanno messo tutti sull'allarme e quindi avrebbero preferito una via più soft è chiarissimo adesso poi voglio sentire si è avuto benedetto il professor Heinis però lo faccio dopo Paolo Sottocorona che ci dice come comincia una settimana molto calda o no? Sì ma allora io penso che non sarà una settimana molto calda ci saranno dei giorni molto caldi sono questi primi poi metà fine settimana le cose potrebbero assolutamente normalizzarsi è anche normale che in questo periodo dell'anno come c'è tempo stabile venti deboli le temperature salgono qualche nuvola c'era questa mattina ha dato qualche breve pioggia sulle zone di Nord Ovest adesso la Sardegna ha delle nuvole però se andiamo a vedere nel complessivo di tutte le 24 ore le piogge previste al sud al centro e su gran parte del nord in realtà non ci sono vedete il grigio di qualche nuvola in Sardegna sulle zone alpine qui c'è quel meccanismo tipicamente estivo poi degli annuvolamenti nel pomeriggio anche qualche pioggia i verdi sono piogge deboli quindi molto poco però fra la Valle d'Aosta in parte e il Trentino Alto Adige più l'Alto Adige direi che il Trentino la possibilità di qualche fenomeno intenso nel pomeriggio c'è ma il tutto dura anche abbastanza poco domani si ripete questa situazione addirittura con molto molto poche sono le diciamo le zone in cui anche sulle Alpi si può avere qualche debole pioggia poi nella giornata di mercoledì torna una piccola zona vedete ma proprio sul confine a nord-est con qualche fenomeno intenso se no sole e appunto poco vento e quindi temperature che aumentano a proposito di poco vento questa è venuta all'ultimo momento questa calma questo fermo assoluto Luca ce l'ha mandata siamo nella zona di Venezia ovviamente il riflesso è talmente perfetto che non si vede il punto in cui l'asta il palo tocca l'acqua e qual è la parte riflessa e quindi sembrano sospesi in aria come per un gioco di magia una foto alla Harry Potter grazie se non ci fossi dovrebbero inventarti grazie a Polo Sottocorona torniamo tra qualche minuto Allora Mario Benedetto insomma riassumo un po' quello che ci raccontava Virginia Piccolillo nel senso è inutile scatenare la guerra termonucleare adesso e forse bisogna farlo ammesso che si debba fare nella fase in cui magari ci saranno riforme diciamo più incisive come la pensi? Ma ora sì sicuramente poi il dibattito che sia interno appunto di cui Virginia ha dato contezza e che sia esterno diciamo che ben venga se possa essere utile aggiustare il tiro quindi non è retorico ma si parla di questioni delicate quindi è una questione di metodo importante e mi limito diciamo in un quadro chiaramente mi vede sostanzialmente concorda per quanto mi è dato sapere diciamo e capire anche attraverso la vita che raccontiamo tutti i giorni degli uffici delle città intuisco l'utilità di una serie di provvedimenti e poi ascoltiamo appunto gli esperti dell'ambito però ecco mi limito a quello che è stato citato nel servizio penso per esempio all'abuso d'ufficio io ho contezza nella mia attività di confronto con ufficiali pubblici e amministrazioni di un grande terrore a firmare qualsiasi documento qualsiasi provvedimento qualsiasi e di un po' come il traffico di influenze tra virgolette è difficile molto difficile lo accennavi Andrea tu giustamente prima rispetto a quei famosi confini che a volte sono sottili da stabilire quindi è difficile capire che cornice e che perimetro dare a questo tipo di fatti specie che siano criminose o meno e allora lo scorso anno per esempio su 3.900 mi sembra casi sono stati archiviati circa 3.500 di abuso d'ufficio le famose appunto 18 condanne di cui si è parlato a fronte del numero spropositato di realtà di persone perseguite quindi sinceramente mi sembra uno sblocca lavori potenzialmente raccontando le cose in chiave positiva e credo che possa essere utile proprio a liberare da quell'immobilismo alcune attività di quelle città vediamo Roma che noi viviamo insomma hanno assolutamente bisogno e poi c'era il tema che accennava Bonelli dell'impugnabilità a quanto diciamo ho capito a quanto apprendiamo è che riguarda l'impossibilità che venga impugnata appunto una sentenza riguarda fatti di contenuta gravità mentre per quelli che sono i reati ascrivibili al codice rosso insomma resta la possibilità di farlo quindi sinceramente io per quanto mi è dato diciamo sapere diciamo da fonte ufficiale e anche ufficiose mi pare sinceramente mi pare una delle soluzioni intelligenti è la strada giusta dici tu sì per Andrea per tornare a quel valore sociale che citava il professore che poi non dobbiamo dimenticare perché noi spesso ci facciamo prendere come dire dal fascino del dibattito e dei principi ma poi tutta questa roba qua si trasforma in vita di tutti i giorni in persone che devono avere servizi cittadini che devono avere tutele ufficiali pubblici e persone che lavorano negli uffici che devono a loro volta poterlo fare rispettando la legge quindi ecco in quest'ottica e poi fammi chiudere anche sulle intercettazioni voglio dirti anche qualcosa che può essere scomodo tra virgolette per me per la categoria beh dobbiamo riconoscere che secondo me la possibilità di recuperare intercettazioni come previsto appunto al DDL da contenuti che emergono in fase di dibattimento sono scritti nella motivazione di un provvedimento mi pare civile perché obiettivamente Andrea siamo sinceri magari per noi può essere tra virgolette un po' limitante però a volte è stato fatto non un uso ma un abuso delle intercettazioni e di informazioni che poi sono rivelate in realtà contrastanti con quella che poi è la fine del discorso con assoluzioni appunto a casi di persone che c'entravano ben poco fermarestando la nostra libertà totale quindi è sempre benvenuto ovviamente sentiamo il professor Heinis sulle cose insomma annunciate da questo disegno di legge uno degli snodi è l'abuso di ufficio da moltissimi sindaci del PD di ogni colore in verità ma anche del PD visto che il PD ancora diciamo ha una posizione ufficiale dice non bisognava cancellarlo del tutto bisognava forse modificarlo peraltro c'è un altro aspetto che credo riguardi la partita con l'Europa perché la partita con l'Europa prevede addirittura credo un rafforzamento di questa fattispecie di reato o giù di lì e oggi il sottosegretario della giustizia Andrea Delmas Mastro delle Vedove a Repubblica dice diremo all'Unione Europea che l'abuso d'ufficio non serve dice noi stiamo facendo una riforma liberale del diritto penale che non depriva i magistrati di alcun potere d'indagine ma conferisce diritti in più al cittadino presunto innocente siamo disposti a dialogare con tutti ma siamo orgogliosi della nostra proposta allora io la metterei così il guaio non riguarda solo l'abuso d'ufficio è che abbiamo troppi reati in circolo qualche anno fa il procuratore generale della Cassazione disse 35.000 ora 35.000 non leggi penali ma siccome molte volte le leggi hanno due o tre articoli che disegnano delle sanzioni penali il numero è un numero formidabile significa che tu puoi commettere tu cittadino puoi commettere un reato senza nemmeno sospettarlo che sta infrangendo la legge penale perché i delitti naturali l'omicidio il furto tutti sanno ma altri sono delitti di pura creazione legislativa allora già il numero di pura creazione legislativa volevo sottolinearlo sì che poi è un'espressione della corte costituzionale in una famosa sentenza del 1988 nella quale disse è vero che la legge non ammette ignoranza ma se l'ignoranza è inevitabile perché ste leggi penali sono talmente tante che non le puoi conoscere il cittadino è scusabile se a questo si aggiunge l'indeterminatezza nella costruzione delle fatti specie penali ecco allora c'è un ordinamento che diventa tossico e io vorrei farlo veramente qui vorrei invitare il ministro Nordio a creare una commissione una qualche cosa per metterli in fila tutti questi reati perché non è solo l'abuso d'ufficio che andrebbe tolto migliorato non so dire ma ce ne sono molti altri di cui nemmeno il ministro conosce l'esistenza e sarebbe un'operazione di pulizia istituzionale misurarli numerarli vedere quali servono e quali non servono e rendere più libera la vita e più sicura la vita ma certo non ci sono dubbi su questo allora vado torno ad Alberto Mingardi no perché poi insomma l'abbiamo detto tutte le salse insomma lo sanno credo come si direbbe anche i paracarri che poi una giustizia farraginosa complicata lenta ovviamente non aiuta tutto quello che è l'economia no insomma gli investimenti si è detto molto non so se su questo Mingardi voleva dire qualcosa se no poi un paio di domande invece da fargli mi sembra molto sensato quello che ha detto Aini Spocanzi nel 1960 dopo aver fatto il presidente della Repubblica Luigi Inaudi scrisse sul Corriere della Sera che ogni italiano avrebbe dovuto passare una settimana all'anno in galera perché stava violando delle norme di cui non era a conoscenza era la sua reazione all'ipertrofia legislativa degli anni 50 quindi oggi probabilmente sarebbe un mese un mese e mezzo l'idea stessa di Stato di diritto va in crisi se le persone non possono veramente avere consapevolezza di quelle che sono le regole alle quali sono sottoposte certo il problema grosso è che innanzi a riforme così difficili da fare come la riforma della giustizia quando un ministro si espone sa che trova il fuoco di fila che Nordio ha già trovato e troverà il rischio vero è disperdere capitale politico e poi non riuscire a completare il processo l'altra domanda è che sta facendo questo governo a proposito di un grande tema che è quello della concorrenza ma questo governo sta facendo poco e tornando a quanto si diceva prima qui sicuramente un problema rilevante è il cambio complessivo di sensibilità nell'Unione Europea noi abbiamo avuto un'autorità garante della concorrenza e del mercato abbiamo cercato di portare un po' di culture della concorrenza in questo paese anche un po' spinti se non forzati dall'appartenenza europea essere parte del club europeo era anche ragionare sui due assi della politica della concorrenza e del mercato interno della progressiva integrazione dei mercati dei diversi paesi oggi l'idea che prevale in Europa invece è quella dell'autonomia strategica quindi si passa dall'idea che in qualche modo le istituzioni pubbliche devono essere dei bravi arbitri della concorrenza di mercato all'idea che le istituzioni pubbliche devono determinare l'allocazione dei fattori produttivi delle risorse e questo crea ovviamente in potenza addirittura l'implosione del sistema per come noi l'abbiamo conosciuto sinora perché è evidente che l'idea di intervenire di determinare come si governano le imprese dove debbono investire quali sono i fornitori a cui possono rivolgersi e quali no piace molto ai governi piace in chiave di protezione extra europea ma poi finisce a piacere anche rispetto alle attività all'interno dei paesi rispetto ad altre aziende e partner attivi in altri paesi UE che però magari hanno un socio cinese o di altri paesi quindi è uno snodo molto difficile c'è il tema delle regole europee rispetto al bilancio pubblico che è oggetto dell'attenzione di molti ma c'è anche questo cambiamento veramente rilevante dell'approccio questa francesizzazione questa colbertizzazione dell'Unione Europea rispetto al rapporto tra Stato e mercato e alla politica della concorrenza stessa prima di chiudere voglio fare una battuta al professor Lainis su questo reato universale di maternità surrogata accompagnato dalle contrapposizioni legittime tra rischiaramenti ma anche da molti dubbi perché? succede spesso con i temi etici oggi lo affronta l'aula della Camera dopo tre mesi di esame in commissione io osserverei questo la Costituzione non enuncia un diritto ad avere dei figli ma incapa ai genitori dei doveri verso i figli primo secondo l'interesse del minore è prevalente rispetto a tutti gli altri ora i bambini non hanno colpe per il modo in cui nascono e come nascono ma il figlio di una coppia che si è rivolta alla gestazione per altri non può ottenere la trascrizione del certificato anagrafico presso i comuni sì ecco nei comuni Sala l'aveva fatto anche i quartieri no? anche i quartieri però perché c'è al solito un chiaro scuro nella normativa ma è una situazione di incertezza che certamente nel momento in cui introduci il reato universale cioè anche se tu la fai all'estero dove è consentita poi qui in Italia va incontro a delle sanzioni penali e certamente non puoi ottenere questa trascrizione allora questo è un punto che va secondo me assolutamente risolto ricordo poi che c'è una sentenza della Corte Costituzionale la 33 del 2021 nella quale per un verso si dice che la maternità surrogata offende la dignità della donna per altro verso si osserva che la soluzione della adozione che potrebbe diciamo in qualche modo rimediare all'impedimento alla trascrizione del certificato anagrafico è una soluzione non soddisfacente ed è vero che non lo è quindi questo richiede una soluzione legislativa ci auguriamo equilibrata vediamo seguiremo ovviamente anche quest'altra questione che insomma come è facile prevedere scatenerà molte polemiche insomma è grande contrapposizione anche nelle aule parlamentari allora comincia credo la stagione estiva dell'area che tira con Francesco Magnani ciao Francesco buongiorno eccomi qua buongiorno Andrea sì con qualche giorno di anticipo rispetto alla stagione meteorologica inizia oggi l'area che tira estate quindi non solo buon inizio di settimana ma buon estate a tutti voi ripartiamo ovviamente dalla piazza del Movimento 5 Stelle di sabato che ha infiammato il dibattito politico poco fa Grillo con un video ha detto attenzione fermi tutti era una butade ma la frittata è fatta e chi dovrà pagarne le conseguenze sarà Elislein che a quella piazza ha partecipato e oggi sarà alla direzione del PD che cosa succederà ce lo spiegherà Anna Maria Teresa Ameli del Corriere della Sera espertissima del PD ma parleremo anche della riforma della giustizia delle parole di fuoco di Nordio contro l'ANM il sindacato dei magistrati con noi un ex magistrato Alfredo Robledo Annalisa Chirico del Foglio Matilde Siracusano Forza Italia Luca Sommi e poi arriverà un sindaco che è già in gara in quella competizione a chi arriva primo per intitolare una piazza una via a Silvio Berlusconi nel fattispecie è il sindaco di Apricena nel Gargano poi ci vengono a trovare Giulio Tremonti Federico Rampini ma noi vogliamo ripartire anche dalla Emilia Romagna un mese fa era il 16 di maggio la grande alluvione ancora non è arrivato il commissario invece si sprecano le polemiche prima Musumeci poi Galeazzo Bignami tanti ospiti tanti temi restate con noi l'area d'estate inizia tra poco grazie grazie allora tra poco appunto l'area che tira è estate grazie a Virginia Piccolillo grazie a Mario Benedetto grazie a Professor Anis grazie a Alberto Mingardi di cui ricordo ancora capitalismo per il mulino noi siamo qui in perterriti domani vi lascio all'area che tira grazie a tutti